Rieccoci al Totti Patrignani per la partita della quinta giornata di Serie A Fiorini Pesaro Rugby che comanda per 12 a 0 sull'unico sano Livorno un Livorno coriaceo e mai domo che però non è mai riuscito ad andare a punti ha sbagliato due calci piastati e ha provato più volte ad andare oltre la linea di meta ma è stata brava Pesaro a respingere gli attacchi dei Toscani Pesaro altrettanto brava e cinica ad andare in meta nelle poche occasioni avute e poi nel finale del primo tempo purtroppo non è riuscita a trasformare in punti le altre occasioni avute adesso è bravo De Angelis ad andare a contatto a mettere a disposizione il pallone Caro lì dentro si forma la rack Pesaro che prova a dare ritmo Boccarossa che guida e adesso Erbolini ad andare dentro con i tre quarti vediamo se riesce ad andare ancora oltre la linea del vantaggio Pesaro che continua a mazzinare i metri adesso è Antonelli ad andare oltre la linea del vantaggio Pesaro da ritmo per Caroli ben messo a terra però dagli avversari Livornesi adesso è Pesaro ad andare e a provare ad andare in meta e questa volta ci riesce ottimo il calcetto sull'ala dell'apertura Jobert che trova Federico Larresciarte tutto solo nella posizione di ala deve solo raccogliere e schiacciare l'ovale mete facili semplici però bisogna esserci raccogliere l'ovale e schiacciarlo Sì soprattutto nelle fasi iniziali dove dobbiamo costruire e avanzare Pesaro ha dato un gran ritmo quello che ha fatto al primo tempo Livorno lo sta facendo subito Pesaro è entrata con una nuova mentalità Probabilmente le parole degli allenatori Allori e Pansieri sono servite in questa pausa fra il primo e il secondo tempo Pesaro è entrata determinata in questa seconda frazione di gioco ed è andata subito in meta con Larresciarte adesso Jobert è chiamato a una trasformazione piuttosto complessa fra l'altro per lui che è un destro In effetti Federico poteva portare la palla un po' più avanti per facilitare il calcio di Jobert Ha pensato forse meglio una meta sicura e quindi ha messo Abbiamo sbagliato una alla fine del primo tempo che era molto facile Silenzio al Totti Patrignani e non va questo calcio di Jobert e quindi partita che è punteggio che si attesta sul 17 a 0 per la Fiorini Pesaro Rugby contro l'unico usano Livorno 3 metri a 0 adesso sono 4 punti puntiamo alla quarta meta per il quinto punto di bonus Intanto vediamo un cambio nelle file del Pesaro entra Franco al posto di leva e vedrete che dal posto questa volta andrà a piastarsi quindi a sinistra nella prima linea Riprende il gioco con il calcio del Livorno Livorno che con metodo in avanti ma Pesaro recupera l'ovale e quindi Pesaro che dà subito ritmo con De Lorenzi che va a contatto va oltre la linea del vantaggio Boccarossa per Jobert che arma i suoi tre quarti Erbolini per Venturini che deve rientrare per non farsi portare fuori bravissimo conquista davvero tanti metri dà però palla da terra ai suoi compagni e purtroppo Pesaro commette un in avanti e si riprenderà con una mischia in favore del Livorno fra l'altro Pesaro che chiacchiera un po' troppo e l'arbitro lo punisce quindi con altri dieci metri indietro e calcio di punizione in favore del Livorno Pesaro che fa tutto da solo Venturini poteva fare una cosa un po' più semplice mettendo palla a disposizione dei compagni e poi i compagni non contenti dopo aver commesso un in avanti che per carità poteva starci si sono messi a chiacchierare con l'arbitro dando addirittura un calcio di punizione quindi una tush da posizione più favorevole per i Livornesi Livorno che adesso deve riorganizzarsi deve assorbire il colpo della meta praticamente a freddo in questo secondo tempo e deve provare comunque a massinare gioco come aveva ben fatto nel primo tempo adesso è il Livorno che continua ad andare avanti vediamo che va a contatto con Aranda ottimo il placcaggio di paletta placcaggio da manuale adesso Pesaro che comunque recupera il pallone dopo l'in avanti dei Livornesi bravo il capitano Villarosa ed è ottimo anche il calcio di liberazione di Giobert adesso prova una furba l'estremo Livornese Salemi però non c'è riuscito o meglio una veloce scusate si può battere palla a se stessi ma il pallone deve fare almeno 5 metri quindi superare la linea che vedete proprio qui di fronte a noi la prima linea parallela all'out non c'è riuscito ha recuperato l'ovale prima e quindi l'arbitro ha ben fischiato ed è calcio di si riprende con un calcio di seconda per Pesaro diversi cambi anche nelle file del Livorno anche per Pesaro esce Venturini ed entra il giovanissimo Tenti anche lui un under 19 no Rulli no Rulli scusate Tenti ancora in panchina è entrato Rulli ala dell'under 19 altro prodotto del vivaio pesarese ed è giusto che questi giovani abbiano spazio faccia un'esperienza anche con la prima squadra soprattutto in un momento in cui l'under 19 ferma che sta per conoscere poi quello che sarà il futuro adesso è Franco ad andare a impattare va oltre la linea del vantaggio è Boccarossa che prova a conquistare un calcio di punizione questa volta la giocata furba la fa lui ed effettivamente riesce a conquistare un calcio di punizione adesso sarà Giobert probabilmente a cercare di andare in tush buona la giocata di Boccarossa che ha sfruttato dalla sua il regolamento e adesso è bella la tush conquistata sui 10 metri da Giobert adesso dovrà essere brava a ripartire Pesaro con un buon lancio da parte di Stefanini per poi impostare il suo gioco sì Bocca è un giocatore intelligente sapeva che andando contro il giocatore che era in fuorigioco guadagnava un un calcio di prima per andare direttamente a giocare dentro i 22 infatti è così qualche problema in tush per fortuna Pesaro riesce comunque a portare lo vale a terra bravo De Lorenzi a recuperare il pallone adesso è caro lì ad andare all'impatto Pesaro deve riuscire a dare ritmo Antonelli per Giobert adesso è Giobert costretto ad andare dentro d'altronde non c'era profondità nella linea di tre quarti pesaresi Bocca rossa ha chiamato a tirar fuori l'ovale la dà a Franco che invece di andare all'impatto da fuori per Erbolini Pesaro che va dentro prova a dare ritmo giallorossi che continuano in queste fasi di gioco Bocca rossa che deve tirare fuori l'ovale purtroppo fatica troppo Pesaro a tirar fuori l'ovale ma riesce a mantenerlo adesso vediamo Pesaro che si riorganizza capitano Villarosa che va dentro palla per Giobert che segna prova a consegnarlo all'arrecciarte ma è brava la difesa del Livorno con Bartolomucci con il mediano Bartolomucci che ci mette un piede e rispedisce l'ovale in tush adesso sembrano cambiati gli equilibri in campo un Livorno che aspetta maggiormente i pesaresi che stanno cercando di fare la partita e stanno cercando di dare il ritmo per andare a segnare la quarta meta che significherebbe cinque punti in classifica e quindi un punto di bonus in più rispetto ai quattro classici della vittoria intanto adesso per Pesaro entra Bartolomei ottima la partita di Stefanini comunque in questo ottima la partita di Stefanini in questo in questa partita e adesso lancio di Bartolomei subito un lancio storto per lui d'altronde non è facile entrare e trovarsi subito a lanciare una tush e quindi si riprende con una mischia in favore una mischia in favore di Livorno giusti al lancio tush a cinque per il Livorno l'arbitro che chiama a fallo dei pesaresi adesso è Pesaro a dover difendere bravo capitano Villarosa metra a terra l'avversario fanno ancora metri i Livornesi provano ad andare avanti col gioco alla mano bella giocata Paletta che prova a recuperare l'ovale ci riesce davvero davvero grandissima azione da parte sua adesso è dal posto a provare ad andare oltre ma l'arbitro vede il doppio movimento da parte di dal posto è un doppio movimento che a mio avviso in certi casi è davvero difficile da evitare sì in questo caso si potrebbe evitare proprio l'occupamento perché c'è una superiorità numerica di cinque persone contro due e invece lui ha preferito mantenere la palla e andare dentro sì bisognava vederle quelle tre persone magari comunque dal posto e dal primo minuto che è in campo tante mischie anche per lui adesso girandola di cambi per il Livorno fra gli altri esce Saleme esce Castellani abbiamo riconosciuto Aranda che è rientrato dopo il cambio di prima e se ne esce anche il pilone Ficarra in campo per il Livorno anche Scrocco si riprende quindi con Nanni a calciare Nanni fra l'altro è uno dei giocatori più giovani se non sbaglio anche lui un 2003 del Livorno evidentemente una delle giovani leve del vivaio livornese che è sempre stato un ottimo vivaio fra l'altro ricordiamolo è un Livorno a cui comunque piace giocare lo avevamo lasciato così in serie B qualche anno fa e comunque era una squadra che faceva del gioco alla mano il suo punto di forza e vediamo che ancora oggi pur faticando sicuramente in una categoria nuova per questi ragazzi cerca di mantenere come proprio marchio di fabbrica adesso comunque Livorno prova a organizzare la sua molle che crolla Livorno che comunque può giocare lo vale non c'è nessun vantaggio vediamo se Pesaro riesce a organizzare al meglio la sua difesa dovrebbe essere così adesso buono il placcaggio dei pesaresi Pesaro che prova a mettere le mani in rack non ci riesce anche se l'arbitro sembrava aver fischiato un fallo in favore di Pesaro l'arbitro però richiama i giallorossi quindi stiamo un attimo a vedere che cos'è successo e comunque sembra palla in favore del Livorno a Pesaro che paga troppo le sue chiacchiere in questo caso calcio di punizione completamente sbagliato doveva calciarlo in tusci invece va dentro l'area di meta Pesaro annulla e si riprende con un calcio se non sbaglio di allontanamento da dentro l'area di meta stessa di Pesaro palla dei giallorossi si riprende con un calcio di allontanamento da dentro l'area di meta decisamente buono il calcio anche se non esce arriva a metà campo Pesaro deve salire con la sua linea difensiva il neo entrato Rolla riesce a mantenere l'ovale vediamo Livorno che prova a organizzare la sua linea dei tre quarti Pesaro che prova ad andare a riconquistare l'ovale e proprio così è bravo Bartolomei ad andare con le mani sul pallone il Livornese non lo lascia e così l'arbitro fischia il tenuto si riprende con un calcio di punizione in favore dei pesaresi sì in questo caso hanno fatto un fallo dove ha trattenuto la palla e Bartolomei è stato molto bravo a recuperare il calcio di punizione a favore adesso andiamo a giocare dentro la loro metà campo intanto intanto per i pesaresi è entrato May credo che sia uscito Antonelli e adesso subito un'altra tush per Pesaro vediamo il secondo lancio di Bartolomei il primo non era stato fortunato speriamo che questo vada meglio May nell'occasione ha i capelli tutti rasati perché gli hanno fatto la matricola la settimana scorsa visto che ha segnato la sua prima meta in Serie A buono il lancio e bravo Karoli ad andare a prendere il lancio palla subito per May che va a contatto adesso è Boccarossa a tirar fuori l'ovale ecco Paletta e lui che va dentro bellissimo il pallone per Rulli che però va a memoria prova a consegnare l'ovale con un offload ma non c'era nessun compagno l'aveva recuperato il Livorno ma per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio visto che il placatore del Livorno non aveva rotolato non era rotolato dal punto di placcaggio e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore dei giallorossi davvero bella l'azione con l'offload prima di Paletta poi Rulli era entrato bastava andare a contatto per poi dare continuità all'azione si era esaltato probabilmente dopo aver visto la giocata del suo compagno di squadra che però dalla sua ha un po' di esperienza in più diciamo la verità ha provato ha provato a replicare l'azione l'offload il sottomano di Paletta non riuscendo bene a servire il compagno che arrivava si riprende comunque con un'altra tush in favore dei pesaresi Bartolomei al lancio riesce a prenderla portarla giù Tontini altro giovane del vivaio pesarese adesso c'è vantaggio per i giallorossi vediamo Boccarossa se riesce a innescare i suoi tre quarti palla per il capitano Villarosa che non si pensa nemmeno un attimo a passarla va subito all'impatto Boccarossa la apre per Giobert è lui che deve dettare il ritmo del gioco e adesso è Rulli ad andare oltre la linea del vantaggio bravissimo mette l'ovale a disposizione Boccarossa la deve tirare fuori buono adesso è dal posto ad andare dentro palla per Boccarossa per Giobert che va dentro per Paletta che dà l'ovale subito lo alza subito per il compagno che va in meta davvero una gran bella meta Paletta era quasi riuscito a deludere la difesa avversaria se non sbaglio è riuscito però a consegnare l'ovale a Erbolini che è andato a schiacciare guarda non sono sicuro che sia Erbolini ma secondo me è franco non vorrei dire il pilone pesarese anche io a dire la verità ho visto delle scarpette azzurre poi lo capiremo meglio dopo fatto sta che Pesaro trova la quarta metà di giornata e quindi se la partita finirà così saranno cinque punti in classifica per i giallorossi diciamo la verità dovrebbe succedere un cataclisma da qui alla fine della partita perché Pesaro non riuscisse a centrare la vittoria sono passati diciassette minuti in questo secondo tempo fra l'altro Giobert trasforma anche e quindi Pesaro che si porta sopra sul 24 a 0 punteggio forse sin troppo duro per il Livorno visto in campo sì perché comunque Livorno ha dato dimostrazione di poterci stare in questo livello e ha dato un sacco di ritmo adesso vediamo due cambi per il Pesaro uno Carlo per Tenti e l'altro Ravagnan non vedo per chi probabilmente uscirà dal posto per Ravagnan forse non è così intanto abbiamo visto che è entrato Filoni in seconda linea probabilmente per Marco De Lorenzi e esce infatti dal posto per Ravagnan e entra in campo anche il giovanissimo Tenti per il capitano Villarosa chissà che non sia di buon auspicio per il futuro per lo stesso Tenti sicuramente un ragazzo dal futuro assicurato regbisticamente parlando anche lui gioca ed è fa parte dell'Accademia Nazionale ed entra anche Ravagnan Ravagnan che dà merito anche al grande lavoro svolto dalla cadetta la seconda squadra Signores della Pesaro Rugby che milita in serie C che comunque è un vivaio prezioso per la squadra pesarese una squadra da cui attingere i giocatori nel momento del bisogno o anche il contrario sicuramente anche il contrario come mi ricorda Smile qui al mio fianco visto che sono alcuni giocatori della serie A soprattutto i più giovani quando non impegnati con la prima squadra possono andare a dare manforte alla cadetta e adesso è il Livorno che prova a ripartire un Livorno sicuramente ferito sotto per quattro mete a zero che comunque prova ancora a macinare con i suoi tre quarti adesso è Pesaro che prova a portarli sull'auto ma c'è un in avanti dei bianco-verdi e quindi si continua e si riprende con una mischia in favore dei pesaresi adesso arbitro che va a parlare sembra con i giocatori toscani forse qualche scambio di veduto e comunque fin qui possiamo dire una partita molto corretta da parte delle due squadre sì non ci sono state scorrettezze grandi volevo ricordare che c'è stato oltre ai cambi effettuati anche il passaggio di capitano a paletta e vice capitano è passato Giubert invece prima abbiamo parlato dell'ingresso in campo di Filoni giocatore che è cresciuto nel vivaio pesarese per poi spostarsi alla capitolina diciamo quando giocava con l'accademia quest'anno è entrato a far parte dell'accademia delle zebre e si allena tutta la settimana con loro e poi nel fine settimana viene a disputare allenamenti e partita con la Pesaro Rugby fra l'altro non dovrà aspetta e comunque Filoni che fino all'anno scorso abitava Roma e quest'anno ritroverà tante trasferte in Lazio e giocherà anche contro la sua squadra con cui si è allenata e giocato fino all'anno scorso che sarebbe la capitolina assolutamente fra l'altro sarà la prossima partita della Fiorini Pesaro Rugby adesso si riprende con una mischia in favore in questo caso del del Pesaro si un Livorno che a quanto pare dovrà vedere la lotta della salvezza con Perugia e molto probabilmente Napoli che sembrano le due squadre in questo momento meno strutturate per andare a giocare questa Serie A adesso Pesaro che subisce malamente una mischia che era sua introduzione è una mischia totalmente rivoluzionata su questo punto di vista con Ravagnan che è diciamo nuovo Alessandro Filoni che anche lui è nuovo quindi dovremmo soffrire un pochino cercare di trovare anche le tempistiche il respiro la spinta tutti insieme vediamo adesso questa nuova mischia questa volta introduzione del Livorno che probabilmente è una mischia che pesa di più ma che forse probabilmente come diceva Gioari si trova meglio e si conosce meglio tanti nuovi elementi nella mischia pesarese e adesso c'è un nuovo calcio di punizione in favore del Livorno vediamo se l'arbitro estrarrà un cartellino ma anche la differenza di peso la differenza di peso tra Ravagnan e il suo diretto diretto avversario che numero 16 saranno 50 kg di differenza comunque un giallo al nostro pilone un giallo a franco sì quindi se non sbaglio dovrà entrare un'altra prima linea di quelle che erano presenti il primo tempo vediamo se entra leva o dal pozzo perché diversamente non si può giocare la mischia è difficile da qui sinceramente capire che cosa sia successo in mischia fatto sta che probabilmente come diceva Smile prima mancano alcuni automatismi fra i primi otto componenti infatti come immaginato entra dal pozzo visto il giallo a franco esce De Angelis momentaneamente e vediamo se con dal pozzo la mischia si ritroverà o siamo ai limiti per una metatecnica se crollasse ancora una volta la mischia pesarese non vorrei che con la tua gufata di prima il cataclisma si stia avverando dai ci auguriamo di no comunque siamo al ventitreesimo pesero sopra per ventitré ventiquattro a zero no a parte gli scherzi adesso il peso si deve stringere anche perché giocheranno in quattordici per dieci minuti e ritrovarsi e cercare di uscire fuori dai ventidue nostri vediamo se gli avanti pesaresi riescono a contrastare quelli del Livorno Livorno sicuramente deciso a portare a casa almeno una meta in questa partita ecco palla introdotta palla che mantengono all'interno i livornesi vanno e alla fine l'arbitro a decretare la meta tecnica in favore del Livorno e quindi punteggio che al ventiquattresimo del secondo tempo si muove e si porta sul ventiquattro a sette in favore della Fiorini Pesaro Rugby Pesaro che deve riprendere subito a mazzinare il suo gioco senza scomporsi più di tanto ha la partita in mano e non si deve sicuramente lasciare intimorire dagli avorsari adesso vediamo Giobert che riprenderà anzi sì Giobert che riprende con il calzo di avvio Pesaro che sale subito Livorno che recupera bene l'ovale la linea difensiva di Pesaro si deve subito organizzare intanto palla persa in avanti da Livorno allora è Pesaro che deve subito riorganizzare la sua linea d'attacco buono Paletta che prova ad andare dentro mantiene l'ovale non c'è la superiorità numerica palla dentro per Filoni che mette l'ovale a disposizione dei compagni e adesso altra furbata da parte di bocca rossa e questa volta il giallo sembra essere assegnato al Livorno così è si pareggiano i giocatori in campo 14 per parte esce per giallo scrocco del Livorno vediamo se Pesaro da quella posizione andrà per i pali o andrà per la Tush va in Tush Giobert trova una buona Tush e adesso che i numeri sono pareggiati in campo vediamo se Pesaro riuscirà ad andare a trovare la quinta meta di partita e quindi a rialzare la testa dopo quella appena subita fra l'altro automatismi che cambiano non poco anche in Tush visto che a parte Caroli in questo caso c'è un nuovo saltatore Filoni che però non è un saltatore da poco vista la sua altezza visto che supera secondo me quasi due metri se li supera supera sicuramente i due metri di altezza ce ne fossero di seconde linee così nel panorama reggistico italiano ma la palla viene consegnata a Caroli che però non la trattiene e commette un in avanti il lancio non era precisissimo era presa ancora meno e purtroppo la palla viene riconsegnata nelle mani del Livorno come dicevo come dicevo prima devono trovare degli automatismi che adesso al momento con la squadra tutta nuova diciamo in campo con dei ragazzi che hanno iniziato ad allenarsi dalla settimana scorsa insieme perché ad esempio Tenti Filoni tutti questi ragazzi alcuni giocano fuori alcuni giocano con la 19 quindi certe cose ancora non sono nelle loro corde vediamo Mischia Pesarese che fatica non poco a tenere quella Livornese adesso allora è Bascia a uscire palla in mano adesso è Livorno che prova a distendersi con i suoi tre quarti adesso si forma la rack palla ancora in mano dei Livornesi provano a giocare con i tre quarti Pesaro che è puntuale nel placcaggio adesso ci mette un po' troppo invece a mettere a terra l'avversario Bascia ad andare ancora oltre la linea del vantaggio una garanzia per il suo Livorno adesso è Piras adesso Buono Ravagnana sul punto d'incontro e c'è un vantaggio per il Livorno allora Pesaro che ancora aspetta è rimasto a terra Bascia il numero 8 del Livorno Livorno che continua a mazzinare metri e va a terra vediamo continuano a dare continuità e Nanni questa volta ad andare all'impatto buona la sua prova c'è anche una scarpa in mezzo al campo del giovane Nanni del Livorno e si trova e si torna sulla linea del vantaggio vediamo vediamo che il Livorno in questo caso ha preso un po' più il sopravventolo e sta cercando di gestire il gioco ormai siamo arrivati al trentesimo di questo secondo tempo si è rialzato bascia sembra avere qualche problema al ginocchio adesso intelligentemente il Livorno chiama mischia visto quanto sta soffrendo pesaro lì davanti speriamo che riesca almeno a tenere che non si trasformi in calcio di punizione per il Livorno questa volta sembra tenere meglio la mischia pesarese crollano ma comunque si va si riprende con i tre quarti del Livorno Pesaro che fatica lì vicino a tenere per fortuna era un po' isolato il giocatore livornese però Pesaro fatica ancora a contenere la marea bianco verde in questo caso e adesso ancora il Livorno a provare ad andare dentro Livorno che gioca vicino la rack Pesaro deve fare attenzione sta giocando molto bene sposta bene il pallone cerca i buchi e adesso è Pesaro in inferiorità numerica a largo cade il giocatore livornese Pesaro deve riorganizzare la sua linea arretrata vediamo Livorno che va a terra con aranda Nanni che prova ad andare dentro Pesaro che comunque lo tiene lì Pesaro che deve difendere bene a largo Boccarossa che mette a terra il diretto avversario è un Livorno che dà ritmo buonissimo in questo caso il placazzo di Tontini non c'è nulla si continua a giocare adesso e bascia ad andare all'impatto bravo Caroli questa volta metterlo subito a terra con l'aiuto di un compagno Bartolomei questa volta in anni a passare ed è bravo però Pesaro a tenere gli avversari e per fortuna dei giallorossi il Livorno commette un in avanti che chiede vendetta purtroppo vendetta non l'avrà adesso si ripartirà con una mischia in favore dei pesaresi che dovranno tallonare veloce per mettere subito la palla a disposizione della propria apertura per calciarla lontano è un Pesaro che in questi dieci minuti finale è decisamente in difficoltà diciamolo tranquillamente si decisamente in difficoltà Giovanni Tenti in questo caso ha messo una gran pezza tra placcaggio recupero palla facciandoli fare avanti siamo chiusi da 5 più di 5 minuti dentro non si 22 con variazioni nel Livorno che per fortuna commettono errore l'arbitro richiama le prime linee una chiacchierata chiarificatrice il Livorno sa che è comunque un buon punto da cui ripartire sa che può recuperare un ovale molto importante quindi dovrà essere bravo Bartolomei a tallonare velocemente il pallone mettendolo a disposizione dei compagni può cercare il fallo e cercare la metatecnica loro cercare il fallo e la metatecnica adesso però Pesaro riesce ad uscire ed esce bene con con Erbolini palla dei giallorossi a disposizione di Giobert che calza in tusce quindi si riprenderà dai 15 metri circa dalla linea di meta adesso ulteriore cambio o meglio finiscono finisce il giallo per Pesaro rientra Santino esce quindi dal posto che era entrato al posto suo e non rientra De Angelis ma entra Nardini vediamo quindi per Pesaro chi andrà a posizionarsi a estremo probabilmente sarà proprio Nardini intanto problema di crampi per Bartolomei sembra di crampi entra anche il medico ma se si tratta di crampi c'è poco da fare probabilmente intanto 5 minuti al termine di questo secondo tempo Pesaro saldamente in vantaggio per 24 a 7 adesso si riprende con una tush in favore del Livorno vediamo Pesaro subito chiamata a rubare questa tush vediamo se si riuscirà ma l'arbitro vede un lancio storto certo è che se Pesaro riuscisse in questi casi a alzare in tutta la sua altezza filoni sul primo blocco sarebbe un bello ostacolo per qualsiasi tush avversaria si perché mediamente se con le linee così alte in seriano non se le trovano tante e vedendo anche il Livorno non c'ha delle grandissime altezze quindi dovremmo sfruttare questa arma palla per Caroli palla adesso Emei ad andare all'impatto andare oltre la linea del vantaggio buono sostegno dei compagni l'arbitro dice che è tutto regolare in questo caso è Franco ad andare dentro bravo buono sostegno dei compagni Boccarossa palla un po' alta per Gioberto ma Erbolini questa volta a distendere le sue gambe a mettere il turbo e ripartire adesso è Boccarossa quindi che prova per i suoi compagni bellissimo l'offload per Caroli davvero bravo va a terra come doveva fare palla per Gioberto che prova a consegnarla al compagno con un calcetto ma in questo caso è il Livorno a metterci un piedino per fermare l'azione pesarese ma l'arbitro vede giustamente il fuorigioco del Livorno e si riprende quindi con un calcio di punizione in favore di peso Gioberto ha provato a sfruttare il vantaggio calciando dietro usando la velocità di Tontini ma è stato stoppato adesso ricominciamo da una buonissima posizione per una Touche provando una Molle penso buono per buono per Gioberto avere anche degli uomini di mischia così veloci perché effettivamente provare a fare un calcetto all'ala su una terza linea non è cosa da tutti i giorni comunque si riprende con una bella Touche sui 10 metri in favore di Pesaro vediamo se riuscirà a portare a terra l'ovale e impostare la sua stione d'attacco decisamente faticoso decisamente faticoso le Touche per Pesaro Tenti l'aveva in mano non riesce a trattenerla con metterla in avanti e Caroli non può far altro che prenderla quando ormai era troppo tardi l'in avanti era già commesso e quindi si riparte con una mischia in favore del Livorno e anche lo scotto ci sta si mettono in campo tanti giovani è uno scotto che bisogna mettere in conto e che ci si può ritrovare a pagare ovviamente gli automatismi non sono quelli precisi che servono in un match ma la vittoria ormai è in tasca per i giallorossi e se questi questi tentativi non li fa in questi casi allora quando è che sono da fare adesso Bascia che esce ancora pallone in mano Pesaro che fatica a metterlo a terra e Livorno che prova a distendersi con i suoi tre quarti andiamo a Pesaro che prova a riconquistare il pallone e ci riesce in maniera ottima perché il Livorno non lo rilascia e allora l'arbitro prima decreta la punizione per Pesaro poi c'era anche un altro pallone per Pesaro adesso bravo Franco all'impatto Ravagnane e lui questa volta che va all'impatto provano a tenerlo alto è andato decisamente alto all'impatto e sembra bravo Livorno a mantenerlo no questa volta riesce ad andare a terra comunque e allora è Jobert che prova con una finta ad andare dentro mantiene comunque l'ovale Boccarossa per Caroli non ne ha davvero più però riesce ad andare comunque oltre la linea del vantaggio adesso è Boccarossa che prova ad andare dentro a consegnarla per Franco ma in questo caso c'è lì in avanti anzi no era un calcio di punizione che Livorno batte veloce Pesaro che difende lì vicino due squadre che sembrano non aver da dire davvero più niente in questa partita giocano tutto veloce tutto alla mano e adesso è Erbolini a riconquistare l'ovale fa tutto da solo palla ancora in mano Pesarese e Tenti questa volta palla in mano forse me a Janzi e Boccarossa apre tutto per Jobert che prova per Nardini a largo prova a sfuggire al diretto avversario non ci riesce pallone che rimane in campo Pesaro che ha ancora l'ovale a disposizione Nardini per Filoni che mantiene l'ovale vediamo adesso è Franco ad andare all'impatto diciamo un ottimo ball carrier va veramente oltre la linea del vantaggio ci riesce ancora e adesso la palla e il timing è perfetto per Erbolini si trova a menadito con Boccarossa ed è lui che va a schiacciare in mezzo ai pali davvero bello l'angolo preso da Erbolini ed è stato davvero bravo Boccarossa a servire da puntino hanno stati l'abbia tirato un bel passaggio molto forte teso Erbolini ha nelle mani la calamita la tenuta e è andato in meta un buon angolo fra l'altro praticamente metà a partita finita Pesaro che adesso si porta sul 29 a 7 da vedere se la trasformerà Giobert così è 31 a 7 per la Fiorini Pesaro Rugby che si impone sull'unicusano Livorno una bella vittoria per 31 a 7 che permette a Pesaro di andare a 15 punti in classifica staccando fra l'altro anche la diretta avversaria Livorno spazio alle interviste Paolo Pansieri vice allenatore della Fiorini Pesaro Rugby oggi una bella vittoria per 31 a 7 contro il Livorno in realtà una partita da due volti un primo tempo in cui Pesaro non ha tenuto in mano il pallino del gioco ma è stata cinica e ha fatto le due mete che hanno scavato il solco e poi invece nel secondo tempo è venuta fuori maggiormente Sì il primo tempo abbiamo un pochino faticato in attacco ci affacciavamo nella loro metà campo ma poi commettevamo falli è anche vero che come hai detto te le due volte che siamo entrati nei 22 abbiamo fatto meta secondo tempo un po' di problemi in mischia ma siamo riusciti ad alzare il ritmo a imporre il nostro gioco c'erano tanti giovani in campo che avevano voglia di giocare e si è visto si è visto che Pesaro quando gioca alla mano può mettere in serie difficoltà gli avversari sì è quello che alleniamo l'impronta che vogliamo dare è il ritmo quello che cerchiamo durante l'allenamento ogni tanto ci riusciamo ogni tanto no dobbiamo essere un pochino più abili in attacco sfruttare le occasioni che ci danno gli altri adesso un turno di stop e poi in casa della Capitolina arrivano le partite un po' più complesse sì adesso ci godiamo questi due o tre giorni di riposo insieme a tutta la squadra e poi ci sarà Capitolina che è uno scoglio molto importante poi Prato diciamo tra le due accreditate per il salto di categorie quindi al momento dovremo essere terzi o quarti in classifica andiamo a testare il nostro peso diciamo grazie in bocca al lupo grazie